buongiorno a tutti ben ritrovati cari telespettatori di fano tv sul canale 17 la rassegna stampa occhio ai giornali che come sempre le sette e mezzo del mattino in diretta apre con le previsioni del tempo e poi con i giornali allora si parla del maltempo oggi si parla anche del carnevale che invece è stato baciato dal bel tempo almeno fino alle sette di sera poi un temporale si è scatenato anche sulla nostra città veloce ma c'è stato anzi addirittura qualche fiocco di neve anche nell'entroterra andiamo a vedere invece la bella immagine del mattino quella che ci propone la nostra webcam che potete vedere sull'osservatorio meteorologico di fano tv nel nostro sito occhio notizia.it immagine stampata delle 7 e 30 eccola qua con una giornata di sole la città di fano baciata dal sole la temperatura temperatura in questo momento a fano è di tre gradi e mezzo allora andiamo sui quotidiani anzi no andiamo a leggere andiamo a vedere le previsioni del tempo per la giornata di oggi lunedì così come prevede la protezione civile delle marche oggi avremo abbiamo il santo allora abbiamo il santo oggi è santa pollonia il sole è sorto alle 7 e un quarto e tramontarà 17 e 28 poi il tempo abbiamo un cielo parzialmente nuvoloso nelle prime ore della giornata per nuvolosità residua in particolare nei settori meridionali le temperature stazionarie in lieve diminuzione mentre per la giornata di domani avremo cielo sereno allora cominciamo con il corriere adriatico dicevamo del maltempo argine del foglia sotto accusa a pesaro i lavori per la terza corsia centropagina malumori politici invece sull'albergo bruscoli la devastazione della rotonda richiama il progetto edilizio del proprietario nell'area del porto intanto nel lungomare è stato il lungomare è stato ripulito e il fango rimosso dalla pagina di fano invece la pagina di fano ovviamente si occupa del carnevale allegorie colori e gioia baciati dal sole in 40.000 il carnevale con le risate scaccia pensieri per il getto battaglia tra carri e palchi conteso il titolo delle tribune più belle ecco i biglietti vincenti della lotteria poi il teatro in teatro lo spettacolo del coro di a riccia i pirati dei caraibi al veglione della gluppa ma c'è stata festa anche nella mattinata con la sfilata dei 500 alunni delle scuole la pagina di pesaro del messaggero maltempo i danni lievitano pesaro e fano oggi già lavoro con riunioni operative per il ripristino del litorale notte da incubo per un automobilista in trappola nel fango salvato dai vigili del fuoco la politica ceriscioli marcolini e donini stasera l'ok il centro sinistra attende il via libera alle primarie l'udc salta la resa dei conti a fano la lezione concerto di paolo marzocchi l'incontro con gli studenti delle superiori organizzato dal dagli amici del teatro sempre in tema di carnevale dal corriere adriatico a fossombrone 7.000 spettatori al carnevale successo di pubblico per il decennale della manifestazione ritrovata allegria e fantasia e ieri mattina anzi ieri pomeriggio alle 15.30 circa insomma chi era sintonizzato su fano tv avrà visto quella mezz'oretta di diretta proprio dalla città di fossombrone sulla apertura del carnevale allora andiamo adesso invece a leggere le pagine interne del messaggero allora sempre sul maltempo giardinetti alla palla e ciclabile sotto monte come campi minati oggi al via i lavori di ripristino dopo la violenta marreggiata i bagnini di ponente dicono queste scogliere ormai non proteggono più guardate le fotografie che sono state pubblicate questa mattina sul giornale si rompe un tubo del gas chiusa la strada dei colli dieci sfratti esecutivi al mese zucchi necessario un rinvio a pesaro si discute anche a pesaro si discute del problema degli sfratti la sinistra dice serve un tavolo permanente per valutare tutte le situazioni di morosità incolpevole la battaglia elettorale per le regionali si faccia sulle vere emergenze come appunto insomma la casa e ancora intrappolato in auto sul tra le strade franate notte da incubo per un quarantenne che si perde nelle campagne di tavoleto ed è soccorso dai vigili del fuoco dopo ore di ricerche rimosso il cedimento a valle avellana grazie a un mezzo speciale il vice sindaco di sasso corvaro dice la diga ha funzionato benissimo e fanno fai conti con un litorale distrutto e per oggi il comune convoca i tecnici sassonia via ruggeri le brecce le zone più colpite dalla violenza del mare poi sul messaggero si parla ovviamente anche del carnevale dei 40.000 fanno un successo grazie anche alla tregua del maltempo il secondo dei corsi mascherati visitatori giunti da mezza italia e adesso il resto del carlino danni dopo la tempesta ora si attendono le stime dei periti la flotta dell'air fly è volata via il titolare arras molti scafi sono rotti curiosi fanno le foto del disastro rotonda bruscoli elisabetta la titolare tutti i tavoli scaraventati dal mare contro la parete e qua sotto ancora vedete le fotografie a sinistra il circolino della vallugola dopo e prima il disastro poi qui sotto la rotonda bruscoli a fianco la spiaggia di pesero e sotto monte sopra mario arras queste sono le fotografie di questa struttura ce ne siamo occupati anche noi abbiamo fatto vedere davvero le immagini tutte le vetrate rotte spaccate da furia del mare pure fanno si lecca le ferite scrive il carlino questa mattina mobilitato il pesce azzurro e la capiteneria chiude la passeggiata del lisippo e se da una parte la costa si lecca le ferite per quelle che sono stati i danni del mare i danni del vento i danni della pioggia dell'acqua in montagna festeggiano anche qui sul catre sul nerone perché anche sul carpegna perché l'acqua sui monti era neve e neve per loro significa lavoro significa gente che va a divertirsi e a sciare assalto alle piste dell'eremo di carpegna code per un auto di traverso parcheggi selvaggi hanno complicato tutto anche sul monte nerone poi c'è stato anche un infortunio suo corso in pista uno sciatore che potrebbe essersi fratturato una spalla è stato soccorso dal 118 e poi altre notizie le altre notizie che potrete leggere sul quotidiano di questa mattina poi sulla pagina di Fano invece i colori del carnevale sfilata da manuale urla di gioia quando l'alma ha battuto la san benedettese perché come ormai di consueto insomma durante il corso mascherato quando gioca il Fano si dà anche il risultato finale della partita e quando c'è un risultato positivo solitamente appunto c'è questo boato ieri un boato più che giustificato anche perché c'era uno scontro un altro bello scontro al vertice il Fano contro la san benedettese seconda in classifica pari merito fino a 24 ore fa in realtà adesso il risultato ha cambiato anche la classifica al maio ventus che vince 1 a 0 dicevamo contro la san benedettese granata lucidi rosso blu invece in crisi di nervi tra l'altro uno è stato espulso uno dei loro giocatori è stato espulso quindi hanno giocato buona parte dell'incontro con un giocatore in meno decide un guizzo di Sivilla lanciato da Borrelli Fano spedisce la Samb in retrovia la squadra di Alessandrini esibisce orgoglio e sangue freddo ospiti come al solito arrendevoli in trasferta il patron Gabellini il presidente non finirò dice mai di ringraziare questi ragazzi mentre l'allenatore anche in emergenza questo gruppo riesce sempre a tirare fuori prestazioni importanti mentre Paolucci della Samb una gara equilibrata dice rovinata dall'espulsione moneti piccoli uccell di bosco la vispesero invece sempre nel campionato di serie D vispesero che perde a Iesi frulla decide il derby in plain Iesina vis in crisi gara equilibrata con le due squadre a lungo in 10 la Iesina che ha vinto sulla vis per una rete a zero e chiudiamo con il giorno del ricordo iniziative per le vittime delle foibe e della tragedia Giuliano Dalmata in questa pagina del resto del Carlino pagina 8 dedicata all'agenda e agli spettacoli ci sono le iniziative in programma nella città di Fano nella città di Pesero e nella città di Urbino la rassegna stampa finisce qui grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a questa sera alle 20.30 arrivederci e vi do appuntamento a questa settimana la città di Pesero e la città di Pesero